Davide Battistella, innanzitutto, come stai e sensazioni su questa crono? Ho provato a farla tutta, però evidentemente non mi sono andato abbastanza a crono. Non è andata male, ma non è neanche andata bene, quindi è andata nella media. In questo giro comunque ci sono delle tappe molto interessanti per le tue caratteristiche, scommetto che ci proverai. Sì, non ho ancora guardato il percorso, perché vedrò giorno per giorno, essendo un giro a tappe lungo, però sicuramente c'è la volontà di far bene in qualche tappa. Per la classifica su chi vi appoggerete? Non credo che abbiamo nessuno per la classifica, saremo una squadra libera di andare a fare le tappe. Ok, grazie.